Il sentiero dell'arte è un percorso artistico atto a valorizzare le bellezze naturalistiche del nostro lungolago. Siamo partiti dalla biblioteca di Lavena Ponte Teresa, abbiamo inaugurato la prima opera all'inizio di luglio, un'opera di Luigi Bello, abbiamo completato un murales, quindi negli anni, incrociandoci anche col percorso della via Francesca, abbiamo intenzione di proseguire con questo percorso e saranno installate opere di arte permanente ma anche temporanee e quindi negli anni avrete sempre delle sculture diverse, mobili e chi passeggerà per la via Francesca avrà anche la possibilità, Lavena Ponte Teresa, di apprezzare delle bellezze naturalistiche anche di quelle artistiche. Grazie.